Siamo al caffè, ce l'ha l'indizio? Ce l'ha un indizio molto simpatico, sai? Caro maestro, oggi ci divertiremo perché è venuto a prendere un caffè da noi, un grande applauso a Gabriele Cirilli, eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno che bella piazza, buongiorno San Paolo, buongiorno Italia, buongiorno maestro Guardi, buongiorno, buongiorno carissimi, Anna, insomma Gabriele, attore, comico, cantante, un imitatore straordinario, ci fai ridere da tanti anni, però non abbiamo capito ancora chi è Tatiana. Già si ride a chi è Tatiana, adesso non la potrei fare più, dovrei dire diversamente magra, però ci tengo a dire una cosa, una piccola parentesi di 20 secondi, quando io feci questo personaggio era un po' di satira, per essere contro un po' all'eccessivamente bello, perfetti, tanto nessuno è perfetto, io volevo insomma dire che bisogna essere grati e onorati di essere imperfetti, e in fondo è sempre meglio essere grassi che fare una magra figura. Ah non c'è dubbio, non c'è dubbio, evviva Tatiana, questo è il tormentone che ti ha reso famoso a Zegni, una se vuoi la dico, chi è Tatiana? Amica mia quella diversamente magra, ma diversamente magra che se se veste di giallo il sole fa, vabbè allora io me ne vado. Bravissimo Gabriele, il tormentone che ti ha reso famoso a Zegni, dire che da bambino so che stavi per intraprendere la carriera del canto, è vero che già da piccolo cantavi da tenore? Sì, allora è successa una cosa stranissima, da quando avevo 7-8 anni a Sulmona dove io sono nato, c'è un teatro stupendo dove hanno debuttato le più grandi opere liriche, e nonna che era appassionata, nonna Concettina, mi portava a vedere queste opere, andammo a vedere Il Trovatore, non sto scherzando, tornammo a casa, mi misi davanti allo specchio della camera di mia nonna, loro erano in cucina di là, e cominciai a cantare di quella pira, l'orrendo fuoco, ma a 7 anni già con sta voce, tutte le fibre emarsi avampò. Bravissimo, bravissimo. Di là, nonna, zio Duile, ho pensato, oddio, ma che è entrato qualche ladro in casa che sentiva questa voce? Vennero e non credettero al fatto che io avevo già quella voce a 7 anni, e Gigi Proietti, il mio maestro, mi disse, ma perché non fai il cantante lirico? Era troppo costoso all'epoca. Era troppo costoso, però Gigi, tu hai citato Gigi, ma in realtà hai intrapreso un'altra strada, hai frequentato la scuola di Gigi Proietti, che per tutti gli artisti di quella scuola ha aperto presto le porte del successo. Vediamo una delle prime apparizioni di Gabriele Cirilli. Io ho detto, ma dè che hai detto il tetto, che hai fatto il gatto, che dice a Bici, chissà il Giove, che derby, dè, com'è? Io ho detto, dico, 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 me fa, dice io, io, e quando, e quando, e quando io, io gli ho detto, dico, 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 Cà, cà, cà avete visto, avete visto il castagna, un amico mio? Avete visto il castagna? Non lo conoscete? Ma come no, quello che è tornato dalla Francia, che ha la puzza sotto il naso, mi ha detto da oggi, mi chiami Marron Claset, quello là. Mamma mia, questa è storia. Il programma di Bruno Voglino. Il programma di Bruno Voglino. Dico, 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 è rimasto famosissimo. Sei salito sul treno del successo, in tv non sei più sceso. Ma è vero che quando hai fatto il primo provino con Carlo Conti non ti ha preso? No, non mi ha preso, giuro. Perché avevo portato Freddie Mercury, la versione abruzzese, Federico Mercurio, invece di We Are The Champion, non se mi cambia una. Non se mi cambia una, miei amici. Solo che Carlo mi disse, bellissimo, molto simpatico, ma non c'è una serialità. Quindi io non ti prendo, ma lo faccio per il tuo bene. Cioè è come quando te lascia una ragazza e dici, ma lo faccio perché ti amo. Ma non è così. Poi dopo mi ha preso. Poi le cose sono andate diversamente, perché con Carlo hai fatto tante puntate di tale e quale, devo dire, con personaggi tanto straordinari quanto improbabili. Vediamo Angela dei ricchi e poveri. Angela dei ricchi e poveri. Vieni Angela. Sempre felice, sempre allegra. Questo ci rende felici e gioiosi, va bene? Che confusione, hai preso il soleone, ti do un consiglio, metti una protezione. Vabbè, ora va a posto, vai. Beh, per qui devo anche dire grazie a Emanuele Aureli, lei è stata fondamentale. Lei è stata il coach del programma di Carlo. Brava Emanuele. Senti, Carlo dopo averti bocciato al primo provino, poi ha avuto una stima di te infinita, tanto da portarti a Sanremo. Vediamo. Per la serie tutti cantano Sanremo, lui. Evviva Carlo Conti! No! Ma scusa, ma tu non eri a fare una serata a Palermo? Voi non sapete cosa ho fatto. Era a Palermo di sera, a lavoro ero. Tu non sai per venire qua, per te, che cosa ho fatto? Per voi, per voi tutti. Indovinate? Che ha fatto? Ho preso l'aereo, brava. La paura è incredibile. Hai preso l'aereo perché tu hai paura dell'aereo. Paura dell'aereo, ma sai perché? Ma tu come fai a fidarti di un posto quando arrivi a prendere l'aereo che c'è scritto Terminal? È già lì che... La fiducia è già da lì che non è... Effettivamente. Senti, Gabriele, nella tua carriera hai incontrato molte persone, però c'è una donna alla quale devi molto, che si chiama Maria. Chi è Maria? Oltre la Madonna le conosco un'altra. Mia moglie. Tua moglie, la stiamo vedendo, eccola. Eh, quanto è bella, quanto è bella. 39 anni che sto con lei. Mamma mia. Siamo fidanzati a 17. Che bello, una vita. Una vita, una vita insieme. E lei ti è stata sempre accanto? Sempre accanto, addirittura ha lasciato il suo lavoro per me. Lei è farmacista? Dai. E lei un giorno disse, no va bene, rinuncio al mio lavoro per te. E lasciò la farmacia e si è messa a lavorare con me, adesso fa la produttrice, insomma, sta nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. Una grande storia d'amore. Di recente Gabriele ha fatto coppia con un altro grande gabarettista, Francesco Paolo Antoni. Vediamo. E ti vorrei rubare un cielo più perle. E pagherei per andare via. Accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E mi vengono e trivi di, trivi di, trivi di. Quelle facce sono, non si possono dimenticare. Senti, Gabriele, c'è una cosa molto bella che stai facendo, hai aperto una scuola di recitazione per dar modo ad altri ragazzi di inseguire il solo. Sì, è un modo per portare avanti il progetto di Gigi Proietti, creare l'artista a 360 gradi. Io a San Salvo in Abruzzo da un anno, ho 30 allievi, sono felicissimo, sta iniziando il secondo corso e li voglio portare nel mondo dello spettacolo, nella scuola di alta formazione professionale e Gigi mi darà una mano in questo. Che in bocca al lupo, ai ragazzi e a Gabriele Cirilli. Grazie per essere stato con noi. Grazie, è un piacere per me. Grazie. Amici di Telestrano.